Presentato questa mattina a Palazzo Civico il piano territoriale regionale, uno strumento fondamentale per la pianificazione del territorio. Sì, oggi è una giornata importante. Io ringrazio il Comune di Spezia, gli otto comuni della provincia di Spezia, che si sono associati per collaborare con Regione Liguria nella stesura e nel recepimento di quelle che sono le osservazioni a un testo base del piano territoriale regionale. Il piano territoriale regionale è atteso da molto tempo. Quando fu fatta la legge urbanistica nel 1997 era previsto anche un piano territoriale regionale che non fu mai fatto da nessuna amministrazione regionale. Noi ci abbiamo messo la testa, abbiamo iniziato il lavoro nel 2019 e lo stiamo portando avanti. È un lavoro meticoloso di ascolto del territorio, di confronto con il territorio per dare quella visione urbanistica e infrastrutturale al nostro territorio, alla Liguria dei prossimi 30 anni. Un lavoro difficile, meticoloso, ma oggi grazie anche alla collaborazione di questi nove comuni della provincia di Spezia avremo anche un partner in più. Un aspetto molto importante è stato detto sarà la rigenerazione urbana per non avere ulteriori colati di cemento sul territorio. Assolutamente. La rigenerazione urbana oramai è il nostro pane quando si parla di urbanistica, quando si parla di territorio. Oramai in Liguria abbiamo molte opportunità di recuperare delle zone degradate, delle zone abbandonate, degli edifici che devono essere recuperati. Abbiamo fatto grandi operazioni di questo tipo in tutta la Liguria ma anche qui nello Spezzine. Quindi continuiamo su questa strada e il PTR certamente mette al centro e valorizza la rigenerazione urbana. In questo lavoro fondamentale di pianificazione lei ha ribadito come sia importante abbandonare la visione del campanile e invece lavorare in un'ottica di interesse grande, di comunità. Sì, assolutamente è fondamentale partire dai vari problemi e vederli in un'ottica sovracomunale. Perché? Perché parliamo di infrastrutture, parliamo di pianificazione, parliamo di rigenerazione urbana, parliamo del futuro di territori che sono connessi naturalmente uno con l'altro. Non è più il tempo dei campanili, per ottenere risultati, attrarre investitori bisogna fare bene, pianificare bene in modo chiaro e trasparente e soprattutto in sinergia. Quindi questo è un lavoro che facciamo insieme a tutti i comuni, disponibili e insieme alla regione è fondamentale per un futuro migliore.